oggi stiamo per scoprire la mini mutosega a batteria da potatura portatile da 500 watt ciao a tutti amici di farmacia agricola oggi facciamo un unboxing davvero speciale perché stiamo per scoprire la ps 550 se sei un appassionato di giardinaggio o hai bisogno di un potente strumento per la potatura questa mini motosega potrebbe essere la soluzione perfetta per te restate sintonizzati perché stiamo per esplorare tutte le caratteristiche di questa potente macchina andiamo a scoprirla ecco la confezione della mini motosega ps 550 appena apriamo la scatola notiamo subito quanto siano ben protette la motosega e le parti accessorie che contiene all'interno troviamo anche un manuale di istruzione dettagliato con descrizione in italiano che spiega come utilizzare la motosega in modo sicuro è ottimale e le certificazioni di garanzia ora passiamo alla protagonista principale la mini motosega ps 550 vediamo quanto è leggera e compatta questo design ergonomico la rende perfetta per la potatura di rami e alberi più piccoli inoltre le batterie ricaricabili sono interscambiabili con la forbice da potatura ec360 di cui abbiamo già fatto un video vi lasciamo il link qui sotto nella confezione troviamo anche il caricabatterie per mantenere la motosega sempre pronta all'uso questo è un grande vantaggio perché permette di lavorare senza interruzioni in quanto puoi ricaricare entrambe le batterie nello stesso momento ora però passiamo alla parte più succosa di questo video quella che aspettavate fin dall'inizio vediamo alcune delle caratteristiche chiave della motosega ps 550 i seghetti potatori a batteria offre una serie di vantaggi rispetto ai seghetti manuali da potatura tra cui una maggiore potenza e versatilità i seghetti potatori a batteria possono tagliare rami di diametro maggiore rispetto ai seghetti manuali rendendoli adatti anche a lavori professionali maggiore comfort e produttività i seghetti potatori a batteria richiedono meno sforzo da parte dell'operatore rendendo il lavoro più confortevole e produttivo maggiore sicurezza i seghetti potatori a batteria sono dotati di un sistema di sicurezza che impedisce la via accidentale i benefici dell'utilizzo di seghetti potatori a batteria sono sicuramente la riduzione dello sforzo fisico perché richiedono meno sforzo da parte dell'operatore rendendo il lavoro meno faticoso e più confortevole questo è particolarmente importante per gli operatori che devono potare grandi quantità di piante o rami di grandi dimensioni maggiore velocità di lavoro poiché consentono di tagliare i rami più velocemente rispetto ai seghetti manuali aumentando la produttività maggiore precisione del taglio i seghetti potatori a batteria consentono di effettuare tagli più precisi rispetto ai seghetti manuali riducendo il rischio di danni alle piante maggiore sicurezza i seghetti potatori a batteria sono dotati di un sistema di sicurezza che impedisce la via accidentale riducendo il rischio di incidenti non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte questa motosega è dotata di un motore da 500 watt che offre una potenza incredibile per una mini motosega il motore montato su queste attrezzature è esclusivamente brushless le batterie a litio ricaricabili offrono un'autonomia eccezionale consentendo di dipotare per oltre un'intera giornata di lavoro senza doverla ricaricare l'impugnatura ergonomica antiscivolo e soprattutto il peso di 1,2 kg comprensivo di attrezzo e batteria estremamente ridotto rendono questa motosega facile da maneggiare riducendola a faticamento durante il lavoro la spranga è lunga oltre 12 cm per tagli da 10 cm puliti la motosega è dotata di caratteristiche di sicurezza come il blocco di sicurezza e il freno a catena per garantire un utilizzo sicuro per attivarla bisogna premere il pulsante di sicurezza posizionato lateralmente assieme al grilletto grazie al display posteriore puoi verificare la carica rimanente e i tagli eseguiti la mini motosega è anche dotata di un portaolio semi automatico per lubrificare la catena durante l'utilizzo senza interrompere il lavoro questo sistema di lubrificazione si è rivelato tra i più comodi e semplici da utilizzare basta premere il primer in alto 2-3 volte ogni 5-10 tagli la catena risulterà lubrificata in maniera ottimale il sistema primer è inoltre tra i più affidabili non sono presenti organi meccanici di ingombero o di rischio rottura all'interno della scatola trovate anche un kit per oliare smontare e limare la lama inoltre assieme a questa valeggetta riceverete occhiali ergonomici per proteggere gli occhi durante la potatura e dei guanti che noi vi consigliamo sempre di indossare prima di utilizzare la motosega elettrica nel kit c'è anche un vd 40 per proteggere la catena da usura nel tempo e il tondino a fila catena per la lama farmacia agricola garantisce questo eccezionale prodotto per 24 mesi e fornisce tutta la riga ora mettiamo questa mini motosega ps 550 alla prova accendiamola e iniziamo a potare alcuni rami insieme come potete vedere la motosega fa un lavoro incredibile tagliando rapidamente e senza sforzo i rami più spessi è davvero impressionante vedere quanto possa fare questa piccola macchina la mini motosega batteria da potatura portatile 500 watt ps 550 è un vero gioiello per gli amanti del giardinaggio offre una potenza sorprendente in un pacchetto compatto e facile da usare la sua batteria duratura e le caratteristiche di sicurezza la rendono ideale per una varietà di lavori di potatura evitando il carico di una motosega più grande guardate taglia con una precisione impressionante guardate il taglio quanto è pulito la precisione del taglio è molto importante come sapete per evitare danni alle piante se siete interessati all'acquisto della mini motosega ps 550 troverete il link alle offerte nel box in descrizione qui sotto se avete domande o commenti non esitate a lasciarli nella sezione dei commenti e sarò felice di rispondervi potete anche scriverci su whatsapp al numero 0827 42457 grazie mille per aver guardato questo unboxing e la recensione della mini motosega ps 550 se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un bel pollice in su condividete e iscrivetevi al nostro canale per altre recensioni e guide sul giardinaggio buona potatura a presto grazie a tutti